adesso dopo amici, chilometri all'ora di quanto eravamo in alto, forzaggi di accelerazione figata amica lo voglio vedere quella pezza di qua, ora lo carico come? cosa fra? guarda dove mi stacca la testa chiunque schifo 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 Grazie a tutti. Bella! Oh Chiofra! Sono qua, vieni! Scusa, guarda, c'è chi è un po' balordo. Quel cazzo di punto non ha... Mica, devo mettermi e sistemarlo, una merda! Questo è un po' più sulle tue corde. Come? È un po' più sulle tue corde, questo? Sì, sì. Ho fatto anche qualche saltino. Ehi, ce n'è qualche... Qualche pietra... Non avevo fatto il calone, non me l'ho ricordato. Non è che io, non l'ho mai visto. Chiedilo a Francesco che non l'aveva mai fatto. Sì! Bello! Ah! Ma la rupassi io con bici? Sì! Molto! Vieni, si controlla. Ah, vieni... Cosa si aspetta... Questa si aspetta? No, passi! Ok, aglio! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh oh. Grazie a tutti. Bella. Bella. Sai che per me è un onore, è la prima volta... Grazie a tutti.